Per le capacità realizzative che hanno, oggi non li chiamano più sub-fornitori, ma super-fornitori. Sono i nostri imprenditori che operano nel campo della moda, insostituibile punto di riferimento per le griff del settore. Per loro, perché possano mettere in vetrina saperi a cui si deve la fama del Made in Italy, Fiera Vicenza ha ideato Origin, la cui nuova edizione si terrà a maggio. Tornerà dal 15 al 18 maggio prossimo in Fiera Vicenza Origin Fashion & Beliefs, l'innovativo salone dove la moda incontra i maestri della manifattura italiana che lo scorso anno, al debutto, registrò ben 6.000 presenze, il 15% rappresentato da operatori esteri provenienti da 64 paesi di importanza strategica, come Cina, Emirati Arabi Uniti, Russia e da tutta Europa. Per presentare la nuova edizione, Confartigenato Vicenza ha ospitato un incontro rivolto alle imprese potenzialmente interessate. Origin, ha spiegato in apertura Stefano Stenta, presidente del sistema moda di Confartigenato, nonché vicepresidente di Fiera Vicenza, vuole dare adeguata visibilità ad una manifattura che non ha eguali altrove. L'Italia è di fatti leader mondiale nella produzione di articoli d'abbigliamento di fascia alta, sia che si parli di tessuto, maglia o pelle. Chi avrà modo e saprà mettere in luce il proprio saper fare, potrà ricavare benefici da nuove relazioni e collaborazioni internazionali, più che mai utili in un momento in cui il mercato interno offre meno sbocchi. Noi proponiamo questo salone della creatività e delle competenze a tutte quelle aziende che fanno della qualità e della capacità di fare il loro punto di forza, specialmente le aziende del Veneto, dove c'è questa grandissima tradizione manifatturiera, che ancora oggi ci è riconosciuta come un valore aggiunto nei mercati internazionali. Quali sono i caratteri distintivi del salone? Il nostro salone come caratteristica principale ha che riesce a coniugare la creatività col saper fare, cioè ha lo scopo di far incontrare 100 designer provenienti da tutto il mondo, con 100 aziende del territorio che fanno invece il loro punto di forza di fare prodotti belli e di qualità. Le imprese socie di Confartigianato usufruiranno di condizioni di favore e nel caso EBAV accolga, come negli auspici, domanda di contributo, l'ente coprirà gran parte della quota di adesione. Inoltre, l'associazione aiuterà eventualmente i propri aderenti a progettare ed organizzare la loro area espositiva, soprattutto nel caso vi fossero difficoltà dovute all'assenza di prodotti da mostrare. Per ogni informazione, contattare l'ufficio categorie di Confartigianato Vicenza.